Promesse di nuovi mezzi non mantenute, anzi ritorno al passato, sono almeno due i casi denunciati in questi giorni dai pendolari Aretini e riguardano i moderni treni Jets e di Vivalto. La corsa del regionale 3168, effettuato abitualmente con il Vivalto, da alcuni giorni viene coperta da Trenitalia con materiale vecchio che costringe in piedi moltissimi viaggiatori. È il treno più utilizzato dagli Aretini, che parte dalla stazione alle 7.12 senza sostare a Montevarchi. Una situazione che continua ad essere aggravata da quotidiani inchini, cioè rallentamenti a favore della linea veloce, ritardi e coincidenze perse che penalizzano lavoratori e studenti. Anche questo sarebbe dunque un mese da rimborsi per i disagi subiti dai pendolari Aretini. Ma i paradossi non finiscono qui. I nuovi ed ergonomici treni Jets che la regione e Trenitalia hanno iniziato ad acquistare non hanno i posti per le biciclette pieghevoli per le quali la regione ha incentivato l'acquisto con i bonus verso i pendolari. Ma i Jets non hanno posto nemmeno per i pendolari stessi, se è vero che nella corsa dell'11.800 a Rezzo Prato del mattino l'afflusso dei viaggiatori ha creato molti disagi, visti i 290 posti a sedere contro le 400 persone a bordo. E così anche qui la situazione è stata presto trovata con la rimessa in circolazione dei treni vecchi con un bel ritorno al passato. La questione è sul tavolo dell'assessorato ai trasporti della regione toscana che deve valutare se continuare ad acquistare questo tipo di treno oppure no.